Ben ritrovati amici del Centrometro Italiano. Una nuova intensa ondata di caldo viene anche oggi confermata dai modelli per i prossimi giorni. Tra il weekend e l'inizio della prossima settimana le temperature dovrebbero raggiungere l'apice, con l'anticiclone africano in estensione su gran parte della nostra penisola. Previsti valori anche di 6-7 gradi al di sopra delle medie del periodo, specie al centro-sud. Questa ondata di caldo potrebbe subire una brusca battuta d'arresto proprio nei giorni intorno al ferragosto. I principali modelli promuongono infatti da diversi giorni l'arrivo di una saccatura atlantica in grado di riportare le temperature vicine alle medie e probabilmente anche maltempo, specie sulle regioni del centro-nord. Trattandosi comunque di una tendenza ancora a 10 giorni di distanza, seguite come sempre tutti gli aggiornamenti sul nostro sito o sul nostro canale youtube. Un saluto da parte del Centrometro Italiano